Musica Io faccio questo sport da 7 anni. Da quando ho 7 anni? Una. Quest'anno. Ho iniziato l'anno scorso? Da... ho iniziato a 9 anni. 3 anni. Ehm... diciamo che ho preso da mio padre, che pure lui lo fa. Beh, sono sempre stato fin da piccolo attratto dal mare, a pensare che a 3 anni già guardavo Pirati dei Caraibi, non so se qualcuno mi conosce, però... Beh, ne ero già grande appassionato a 3 anni, poi mi sono sempre piaciute le barca a vela e la scelta è stata naturale di questo sport. Perché, allora, i miei sport sono quasi tutti acquatici, quelli che ho fatto e amo l'acqua, tra mio volete. Musica Sì, ho conosciuto Maria Chiara, ho conosciuto altre... un'altra bambina della Lega, Beatrice, e se no, gli altri sono tutti maldi. Come Alessandro, Pippi... ragazzi che mi fanno molto ridere. Un bel team. Sì, oltre ai compagni di squadra ho conosciuto tutti quelli che stanno al circolo e... anche le persone con cui ho gareggiato e degli altri circoli. Musica Aprire un nuovo circolo di vela. Oggiare le Olimpiadi con un concerto. Diventare un grande velista e avere una barca grande. Un sogno che è molto grande, è poter fare il giro del mondo. Musica 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 Musica